ah non mi mancava non mi mancava non mi portate che figliato peccato che ce ne avevano avanti non si doveva fermarsi se no veramente era da fare e adesso devo appoggio qua poi c'è la parte di togliere in mezzo e poi c'è la ruota dentro poi dov'è scendere sotto di qua foto qua eh si eh bene solo che uno si è rimane sempre qua l'ho mandato giù a foto a rufs eh posto 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 no 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 ecco a letto poi c'è l'intento qui arriva ehi ti faccio le foto eh pepe non ce l'ho qui il telefono mamma mia non serve questo e prendendo no no è spenta io mi sto fermato a metà tutto no 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 no